Deus in adiutorium meum intende, Domine, ad adiuvandum me' festina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, perdona tutte le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano, «Salve, re dei giudei!» E gli davano schiaffi. Le sofferenze di Gesù hanno preso la loro forma storica, concreta, dal fatto che egli è stato riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli iscrivi, i quali lo hanno consegnato ai pagani perché sia schernito e flagellato e crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del Tuo seno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Dodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Grazie. 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 Grazie.